Seguiranno una luce diversa. La voce interiore attraverso Roberta S. guide. La vostra mente si confonde facilmente, ma ricordatevi che è il vostro atteggiamento a fare la differenza nei vostri pensieri. Se il vostro atteggiamento sarà sereno e tranquillo, i vostri pensieri seguiranno una luce diversa e vi porteranno anche a capire un po' di più di quello che ora non capite, anche con il ragionamento. Ma pretendere di capire non porta necessariamente alla comprensione, anzi, può portare ad avere delle idee piuttosto sbagliate per quello che riguarda il vostro vero essere. Fate in modo che le vostre idee siano attinenti a quello che siete. Fate in modo che i vostri pensieri rispecchino il vostro essere, il vostro essere attuale, di ora, non quello che fa parte di un percorso lungo e che dovete ancora tirar fuori da voi. Ci riferiamo a quello che siete ora, al meglio di come siete ora. Potete far sì che i vostri pensieri siano sempre in linea con il vostro procedere. Grazie a tutti.